Cos'è la donazione di plasma di sangue? La donazione di plasma sanguigno si verifica quando una persona dona il proprio plasma attraverso un processo chiamato plasmaferesi, che avviene più spesso in un centro di donazione di plasma sanguigno o centro donatore. Il plasma che viene raccolto da questi centri donatori viene utilizzato per fare terapie con proteine plasmatiche che vengono utilizzate per trattare molte malattie e disturbi rari. Alcune delle condizioni che le donazioni di plasma sanguigno hanno contribuito a trattare sono, disturbi emorragici, carenze del sistema immunitario, ustioni, shock, traumi, epatite e altro. Il primo passo della donazione di plasma o plasmaferesi sta rimuovendo il sangue dal corpo del donatore. Il sangue viene prelevato dal braccio attraverso un tubo sterile mentre si raccoglie in una centrifuga. Successivamente, il sangue viene centrifugato nella centrifuga e si separa in tre componenti, globuli rossi, piastrine e plasma. Il plasma viene rimosso dalla miscela e sostituito con soluzione salina sterile e quindi restituito al corpo. La donazione di plasma sanguigno richiede circa un'ora e mezza dopo la visita iniziale. La prima visita richiede più tempo perché un donatore deve fornire un'anamnesi completa ed essere anche sottoposto a test su virus trasmissibili, come la sifilide, l'epatite e il virus dell'immunodeficienza umana. Virus dell'immunodeficienza umana. Se un donatore presenta un comportamento ad alto rischio, molto probabilmente lo screening farmacologico avrà luogo. Inoltre, i donatori devono avere almeno 18 anni e pensare 110 libre. 50 kg in Europa. La visita iniziale di solito dura circa due e mezza o tre ore. Le regole sulle frequenze di donazione del plasma sanguigno e le quantità variano notevolmente. Gli Stati Uniti sono i meno restrittivi senza limiti annuali e altri paesi in Europa hanno limiti annuali. Negli Stati Uniti, i donatori non possono donare plasma più di due volte in sette giorni e ci deve essere un periodo di riposo di due giorni in mezzo. Questo perché il corpo ha bisogno di quel tempo per reintegrare il plasma perduto dalla precedente donazione di plasma sanguigno. Alcune persone hanno effetti collaterali durante la donazione di plasma sanguigno. Gli effetti indesiderati comuni includono, ma non sono limitati a shock, convulsioni, vertigini o svenimenti. Il modo migliore per evitare effetti collaterali è quello di mangiare un pasto sano e bere una buona quantità di acqua tre o quattro ore prima di donare il plasma. Poiché la necessità di donazione di plasma sanguigno cresce ogni anno, i centri donatori offrono un compenso per il tempo dedicato alla donazione del plasma. Alcuni centri donatori emettono assegni e altri emettono denaro contante al momento della donazione. Il risarcimento varia tra i diversi centri donatori.